MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM Che amano un baffaro proprio a fare baffaro? Stato in cuo' di anno le faccio un nemmeno per farlo cantare Eeeh va bene guarda pure con i ui invece di fare quello per ridere perchè poi gli spara minchiata Volevo sapere che fine ha fatto Sosina? Sosina sta facendo come amica so Eeeh a quest'amica so ci vuole tanto bene a sta marito che ha ben non consumato se usa di due loro Eeeh, così sta facendo una gara rosina perché ci aiuto da presto, sta scuffata. Minchia ma sono da un caglio!